Questo è il misterioso antico posto per avventure. Noi per brevità lo chiamiamo L.A.P.P.A. È un posto davvero misterioso con tante aree da esplorare. È anche il posto dove vivevano gli antichi e dove furono create tutte le creazioni. Ma come hanno fatto gli antichi a creare le creazioni? Pensate, è un mistero! Sai che è misterioso anche? Quella che sta combinando Chaos con tutta quella magia mentale. Ci servirà un aiuto Skylander. Quando avrai finito di esplorare torneremo insieme all'Accademia.